Manca poco all'inizio del campionato, cosa aspetta la chiave di Bicisoccia? Sì ormai manca poco, siamo pronti, 20 giorni che ci alleniamo, non è tantissimo ma per quello che potevamo fare qui sul nostro campo ci stiamo allenando, ci stiamo preparando, stiamo facendo il massimo e venerdì si parte per Pescara, prima tappa primo giorno si riposa, poi abbiamo Cagliari e Bologna subito in salita perché sono due squadre molto attrezzate ma noi faremo il massimo per farci rispettare, l'obiettivo è quello di migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso quindi la salvezza a raggiungere la prima possibile e poi il massimo impegno profuso dei miei giocatori, da me e dal mio staff vediamo che cosa si può ottenere Spieghiamo brevemente come funziona il campionato che è leggermente diverso al campionato di calcio C'è la pole promozione e la pole scudetto, diciamo che vengono unite pole promozione e pole scudetto nel fatto che se vinci la pole promozione vai a fare la finalet con la pole d'elite e invece se arrivi secondo terzo quarto vai a fare il playoff e quindi viene praticamente chiamata serie A promozione, serie A d'elite, serie A promozione dove siamo noi e dove quest'anno ci sono nove squadre compresa la nostra quindi otto partite divise in tre tappe abbiamo Pescara la prima fra una settimana, fra un mese andiamo a Ciro Marina e poi l'ultima tappa allineano sabbia d'oro e vediamo che cosa succede Com'è composta la squadra? Ci sono magari ex calciatori, è stato presentato in questi giorni? Sì, sono giocatori particolarmente dilettanti noi siamo sotto la Lega Nazionale dilettanti quindi c'è qualche giocatore di Serie D qualcuno di eccellenza, molti dalla zona, c'è qualcuno che arriva da Genova qualcuno dalla Toscana, abbiamo anche la fortuna di avere uno dei giocatori molto probabilmente uno dei top player della nostra categoria che è già nel giro della Nazionale, Samuele Sassari che l'anno scorso ha vinto il campionato italiano col Pisa quest'anno ha scelto noi e siamo onorati e fortunati ad averlo che è stato presentato in questi giorni